ma adesso dobbiamo parlare del come definire il trappolone che mi hai allora innanzitutto non è una trappola perché da tempo che sapevo di voler completare questa trilogia io non sono stato costretto quindi ho detto assolutamente una frescaccia però è tornato anzi no è arrivato al cinema con una tempistica e anche una vita produttiva veramente interessante l'ultimo capitolo della trilogia di Ty West stiamo parlando di un film che è passato se non ricordo male anche a Venezia giusto uno dei tre uno dei tre sì certo uno dei tre allora parliamo di questo film non so se partire dalla fine ha molto senso in realtà credo che la recensione del primo si trovi anche nel nostro canale se non dico una stupidaggine come no c'è anche quella quel simpatico commento capito un piffero può essere sono anzi quasi certa di aver capito niente però noi ci proviamo ecco diamo la nostra non è che dobbiamo necessariamente avere la verità del mondo in tasca assolutamente no si intuisce un certo dialogo con le persone che commentano e abitano e vivono e reggiscono io dialogo pure sul canale non insultino poi avete il resto c'è il tasto stiamo parlando di Maxine film uscito tuttora nelle sale credo che qualcosa possiate ancora trovare è uscito esattamente a ritorno che qua durano un secondo non si fa in tempo manco è però forse qualcosa trovate ancora ed è il terzo e l'ultimo capitolo della trilogia X ovvero X ed è possiamo considerarlo in ordine il seguito quindi di X a sexy horror story quindi c'è il primo è pearl in ordine cronologico ok prima è pearl il secondo è X a sexy horror story e il terzo è Maxine in realtà poi nell'uscita c'è stato prima X poi pearl che è andato a Venezia ok esatto e poi Maxine ma aspetta aspetta le tradizioni sono importanti questo vuol dire che è tornata la rubrica quella degli horror di Flavia Capone prego allora intanto parto facendo una domanda a te Ty West si chi è è un cintura nera di horror a basso costo a basso budget sicuramente un creativo del genere ok ok un regista anche abbastanza giovane ma è dell'ottanta no in realtà una via di mezzo ma guardarlo sembra sembra ancora più sembra uno degli zizi top la foto su wikipedia è un po' vecchia diciamo che credo però che abbia sfondato con questa trilogia forse non so se veramente no ha partecipato sia a una serie che si chiama Ghost of Devil che è un film del 2009 poi c'è un Cabin Fever 2 che è un seguito del Cabin Fever che ne infatti mi ricordo ha partecipato a VHS una serie di film che avevano l'orrore dentro la la cassetta erano una serie di anche racconti slegati ma anche una sorta di abecedario della paura si chiama abc of terror carino che tenerezza dove è una sorta di appunto come abc of death o death è una sorta di raccolta di film brevi tutti diretti da registi e autori differenti e lui è uno di quelli che è spiccato però mi piace la coerenza cioè mi piace che vuole fare questo lui vuole fare horror nella vita ma non è che non ci spostiamo a fare altre cose voglio fare loro facesse horror mi piace questo sono bravo a fare questo faccio questo la trilogia in questione che prende gli anni 2022 entrambi sia ex che per sono di quell'anno e poi c'è 2024 Maxine la protagonista è la stessa nel senso almeno il volto ricorrente possiamo dire la protagonista assolutamente è mia gott è anche produttrice che è anche produttrice sicuramente di Maxine non so se anche degli altri due che è un volto che sicuramente vi rimarrà impresso se la guardate una volta e che credo che farà strada poi lasciamo stare che facendo questo genere di film con questo tipo di storia di protagonista è un po come non so se è un modo per attirarsi la sfiga da sola nel senso che no perché i film in realtà adesso ci ci torniamo ruotano proprio attorno a questo concetto cioè la ricerca del successo e l'essere un volto riconoscibile che poi è quello che lei fa e sta facendo effettivamente nella sua vita comunque Maxine è la storia di questa ragazza che siamo negli anni 80 siamo prepotentemente negli anni 80 l'estetica è quella e già Giovanni si schifa però così è addirittura le i titoli i credits i titoli di testa i titoli di coda sono con diciamo il font di Beverly Hills no più che Beverly Hills Beverly Hills Cop forse quello quello di Eddie Murphy quello lì mi sembra più quello e sono queste scritte poi colorate al neon e grandi capelli grandi spalline grandi jeans roba di jeans assecchiate grande degrado grande degrado stati uniti questa ragazza è un attrice di film porno ovvero la stessa attrice di film porno protagonista del secondo film quindi ex che diciamo dopo essere sopravvissuta ad ex che è un film dell'orrore quindi lei è effettivamente sopravvissuta questo purtroppo non è uno spoiler è la realtà dei fatti perché sta in quest'altro film a come a chi ve lo decide che vuole sfondare nel cinema normale diciamo non nel porno si è fatta un nome nel porno è una personalità diciamo del settore vuole diventare un'attrice a tutto tondo e questa è una fissazione quella di fare successo che è un po il tema di tutti e tre i film perché anche nel primo film cronologico Pearl la protagonista Pearl che è sempre Mia Gott anche se è un altro personaggio aveva quello come obiettivo solo che in quel caso eravamo nel dopo guerra quindi negli anni nel durante nel durante guerra negli anni 40 negli anni 40 quindi erano mondi diversi cinema diversi il cinema in bianco e nero che poi evolve diventa negli anni 70 il cinema sì negli anni 70 il cinema libero e quindi primi cioè noi primi insomma i porno che prendono un po più piede poi negli anni 80 il porno ha avuto diciamo anche una una grande esplosione per un certo tipo di estetica femminile che si è imposta anche per una rivoluzione tecnologica la cassetta e per l'evoluzione tecnologica e e si inizia diciamo e lei invece vuole approcciarsi al cinema vero e proprio quindi questa ricerca di successo che passa da donna a donna è secondo me in realtà il vero il vero senso del film cosa sei disposto a fare per avere successo cosa sei a cosa sei disposto a passare sopra come vuoi puoi trasformarti perché lei poi quello che fa è trasformarsi in continuazione quindi passare da il primo film una ragazzina degli anni 40 dall'aspetto sembra molto semplice campagnolo praticamente a una biondona cotonata degli anni 80 iper truccata che cerca appunto di avere di trovare la sua strada per me la cosa interessa ovviamente poi posso dire in maxine la componente horrorifica prende piede da un serial killer che uccide le donne e all'inizio del film c'è appunto questo serial killer che tutti cercano e che diciamo terrorizza il mondo notturno no quindi le persone anche come maxine stessa che lavorano anche di notte in tutto questo rimane molto presente anche un altro argomento che è quello della censura perché di cosa si parla in tutti e tre i film c'è fondamentalmente un confronto tra la libertà libertà di espressione libertà di intrattenersi libertà sessuale libertà di realizzazione libertà di realizzazione in quanto donne tra l'altro e dall'altra parte c'è il mondo che censura il mondo della della chiesa protestante o cattolica quel che insomma comunque in generale il mondo un po quello dei santoni americani che ti dicono pentiti pentiti perché sei una peccatrice soprattutto se sei donna se sei maschio fa quello che ti pare e in generale il mondo che divide le persone in persone per bene e persone che invece si comportano male questo è il senso secondo me del film no cioè anche della trilogia di tutta la trilogia sì 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 il fatto di diciamo di questo confronto fra la prigionia soprattutto mentale del pregiudizio di quello che non si può fare di quello che è sbagliato fare che poi diventa nel nella personale nell'intimo in realtà fare le peggiori cose perché poi appunto molto spesso le persone che si dimostrano in questi film più rigide poi hanno dentro di sé invece uno uno spili una spinta diciamo di censura che li frustra no cioè ci questi santoni che cercano di di dire agli altri che sbagliano in realtà sono i primi a sbagliare ma stai parlando di fratelli d'italia non sto parlando del partito di governo ma lasciamo stare però sono i primi che che dicono che cercano il male negli altri senza avere la famosa trave stai parlando palesemente di quello chiudendo non voglio fare riferimenti alla politica però come diceva giustamente anche anna bardazzi prima la politica sta dappertutto in questo caso e negli horror e negli horror ce n'è molta e allora diciamo diamo un parere non stiamo parlando dei capolavori del settore horror che io abbia mai visto nella mia vita no assolutamente no però sono dei film godibili secondo me tutti e tre forse il migliore dal punto di vista sociologico è questo maxine anche se devo dire che a me è piaciuto anche molto forse non ha trovato piena realizzazione estetica però mi è piaciuto molto anche per perché secondo me era interessante vedere il percorso di una ragazza negli anni 40 che voleva diventare una star di quel cinema ma dai ma quando mai te l'hanno raccontata una cosa del cioè sì te l'hanno raccontata vabbè però a me viene in mente tipo da shirley temple forse la magnani dopo con la figlia bellissima che però erano gli anni 50 però questa cosa della ragazzetta che voleva diventare la regina di quel cinema che normalmente vediamo solo nei musei cioè con queste ballerine che ripetono in continuazione gli stessi passi noi non ci abbiamo mai pensato chi c'era dietro queste donne forse sì in realtà ci hanno pensato alcune sono state pioniere no rispetto anche a questi esperimenti cinematografici non lo so io l'ho trovata una cosa interessante secondo me poteva poteva essere un buon approccio la resa estetica secondo anche di volutamente come dire a basso costo come dicevi tu prima cioè volutamente si uno splatter diciamo non credibilissimo se teste che si schiacciano che sembrano fatte di pongo cioè però una cosa che credo che sia voluta no un tipo di immaginare perché in fondo è vero che sono degli horror a tutto tondo per cui c'è sicuramente la volontà di spaventare però mi sembra che ci sia di più la volontà di raccontare un certo approccio al mondo dell'intrattenimento e questo per me è il punto di forza e il punto debole perché sono molto interessato a esattamente questo cioè tutto ciò che è oltre intorno al pongo rosso sì che sembra un che però potrebbe essere volere di più dai potrebbe essere di più potrebbe essere fatto peggio sono d'accordo sono d'accordo ma di default non sono molto interessato a quella quell'argomento quelle tematiche ma è questo appunto una una mia cifra personale e anche nelle recensioni è interessante fino a un certo punto sicuramente è da notare che il il viaggio verso questi mondi questi tre mondi questi tre contesti anche vedere la trasformazione di del del personaggio è molto interessante che la i tre film sono autonomi possono essere godi goduti singolarmente in ordine casuale prima il terzo poi il quarto non è una roba alla marvel o alla star wars non è un corpus da rispettare rigorosamente e è una è una trilogia su cui giocare con cui giocare ma appunto tutto il contesto tutto ciò che è intorno al pongo ritorno è molto più interessante della della storia è molto interessante ma non c'è mai non ho mai avuto la soddisfazione di un approfondimento più del livello 3 si arriva fino a un certo punto e poi stack come se finisse la pellicola secondo io credo che sia una cosa un po voluta lasciare lasciare la lasciarci un po sospesi su quelle che saranno la prosecuzione di tutto questo nel caso di maxine siamo alla alla compiutezza del meta del meta linguaggio nel senso che nel senso che in pearl c'è una ragazza che vuole diventare attrice di un cinema agli albori dove praticamente è quasi una ripresa dello spettacolo sul palco no basta semplicemente questo e poi c'è tutto l'horror che viene dalle sue azioni nel secondo è un porno il il tipo di cinema un cinema pornografico nel terzo maxine sta per diventare protagonista di un horror quindi l'horror entra anche nella narrazione in quanto genere è un horror non a caso che racconta la storia di una puritana cioè racconta la storia di una donna il seguito del primo diciamo che racconta la storia di una puritana che in qualche modo poi invece si va a mischiare col demoniaco quindi diciamo che ci sono una serie di autocitazioni e citazioni interne che secondo me lo reggono lo rendono questa trilogia più complessa di quello che sembra sì sono d'accordo sono d'accordo tra l'altro questo discorso del del sequel che parla del precedente film all'interno del racconto mettendo un po è vero non è vero cosa abbiamo visto il film poi essendo passato un po di tempo almeno noi ci siamo andati a riguardare bene i nomi ma quindi siamo sicuri che quelle persone erano quelle non vogliamo dirvelo però erano quelle del film precedente sì no come in che modalità secondo me è interessante poi da noi in realtà io prima ho detto che c'è stato prima ex poi per in realtà questo è quello l'ordine in cui sono arrivati da noi forse per non è arrivato neanche da nessuna parte era al festival di venezia quando x non era era non è andato a venezia credo o sì è andato a venezia ok però sono arrivati in momenti diversi perché invece vedo che il debutto di perl è stato al toronto film festival nel 2022 in cui è stato annunciato che stavano facendo il sequel che era ex ex poi è stato fatto e poi dopo ancora con mia gott che è ritornata a fare il personaggio principale e che poi è diventata anche produttrice anche di ex sì quindi insomma noi ci siamo un po come al solito come succede in italia un po' impicciati però ecco se li vedete in ordine forse ha senso no fatta così sicuramente la questa trilogia questo lavoro questo regista questa protagonista questa attrice avranno grande spazio in futuro vedo che tra pearl e maxine thai west ha diretto anche il video musicale di no angels di justin timberlake così tanto per fare una cosa diversa mia gott sicuramente non è una arrivata così dal cielo ma ha esordito con il nymphomaniac di l'herz von trier e c'è piria c'è ci sono diversi lavori con guadagnino quindi lei ha sicuramente un volto che per questo genere io trovo memorabile perfetto perché è proprio la classica bellezza inquietante perché bella è bella non si può dire che non sia bella però ha questo soprattutto quando sorride è un sorriso che palesemente nasconde qualcos'altro per cui è proprio perfetta per fare per fare questo già ora non voglio incastlarla nell'horror così come maxine era incastlata nel porno questo dicevo prima però chissà e thai west lo sa benissimo sa giocare moltissimo con la figura di mia gott è emblematico l'inizio di maxine dove lei entra in scena ma che entra la prima scena è durante un provino ma alle porte di uno studio completamente gigantesco un hangar di quelli proverbiali della warner bros immaginiamo si apre entra una figura da da lontano molto molto piccola piano piano la silhouette bruciata dal sole diventa sempre più definita e inizialmente la vediamo appunto molto molto piccola nello schermo sembra veramente una bambolina esattamente alle forme anche la struttura di una barbie ma a un certo punto anche con l'illuminazione che le scava gli occhi quella volto quella forma quella forma anche convenzionale con il boccolo fatto ha un volto scavato a un volto bucato dalla luce che sembra un teschio quindi molto molto interessante non è una cosa che succede a caso non sono scelte di regia così a passando ma sicuramente da apprezzare sicuramente poteva fare di più sulla colonna sonora mi aspettavo molto di più ma gli zizi top ci stanno sempre bene e aprono proprio il film ciao ciao Grazie.